Ecco siamo in compagnia di Corrado Tedeschi, siamo tutti qua come tanti amici cari a festeggiare un amico di tutti Oscar Prudente, tu in particolare che legame hai con lui? Beh un legame importantissimo che è Genova, per cui Genova la città, Genova quella scuola di cantautori alla quale Oscar appartiene, ha suonato addirittura con Tenko che è il mio mito, quindi insomma cose molto profonde, è un'amicizia che è andata avanti nel corso degli anni e sentirlo stasera raccontare tutta la sua vita, le sue esperienze, le sue amicizie che sono importantissime sarà un viaggio bellissimo. So che però tu in qualche modo vorresti regalargli delle sorprese, quindi senti a noi dei Liberi.tv puoi anticipare qualcosa? Beh sì, ho qui una sorpresa che è una poesia scritta da un giornalista del Corriere della Sera che leggerò salendo a sorpresa dalla platea e quindi è un regalo in una serata dove Oscar è l'assoluto protagonista. Siamo felicissimi di averti con noi, noi chiudiamo sempre le nostre interviste prima della prima a teatro dicendo ai nostri ospiti Parlami di te, che cosa hai voglia di dire di Corrado Tedeschi a Liberi.tv? Ma che continui così come sta andando adesso, non voglio esagerare, va benissimo così com'è. E noi siamo felici e non vediamo l'ora soprattutto di ascoltarti. Grazie, grazie Corrado.